Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sul mio canale Equit108 Il mio nome è come sempre Equit108 e quest'oggi giocheremo un po' a Diablo 3 Questo non è un lesplay, è solo un video cazzeggio così tanto per farvi vedere un po' la mia monaca Perché ci sono stati dei cambiamenti fatti a Diablo 3 che mi sono piaciuti parecchio Nel senso all'inizio Diablo non mi piaceva così tanto il 3 perché lo reputavo ripetitivo etc 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 E soprattutto non mi dava soddisfazione perché questi giochi devono avere un loot system che ti faccia fare Oh mio dio l'arma di satana e poi vengono presi a calci nel culo templare Sì va bene, mentre loro chiacchierano dei cazzi loro Comunque sì io voglio far vedere un po' il setup che ho in questo momento Sono di livello 22, ho iniziato da capo con una monaca che si chiama Lisin Quindi yes E non sono neanche alla fine dell'atto 2 e siccome sto giocando in esperto Sto guadagnando un sacco un sacco un sacco di esperienza contando che c'è anche il potenziamento dentro la comunità Quindi è aumentata del 250% l'esperienza che sto facendo in questo momento Comunque come vedete ho un sacco tipo dei leggendari, un sacco di rari e cose del genere Perché i drop sono veramente fighi adesso Insomma ti... è worth it Capito? Quando vai in giro e inizia a uccidere la gente e farli esplodere per trovare loot Perlomeno droppano robe utili Quindi questo si chiama il loot 2.0 È stato implementato dalla Blizzard recentemente con l'uscita di Reaper of Souls Che io ho preso E quindi volevo farmelo vedere l'eremita impazzito Sì tesoro, sì Ok, fatti cantare dalla regina, non ti preoccupare, sei bellissimo Va bene, comunque queste sono le caverne Aranea Aranea? Come cazzo si chiama? Oddio No, è vero, qua ci sono i ragni Gesù, che odio Che odio Perché i ragni? Perché? Perché i ragni? Io non sono una persona che ama i ragni Spam! Ok Perché i ragni? Sentiamo le nuove nozioni Il ragnetto Ah bene Bene, bene, bene Uh, forse le male Oh cazzo cos'è sta roba Perché è rosso? Ascoso tossico Che cazzo sei? Che roba brutta Va bene Yes Eccolo qua Lo sapevo Comunque la mia Ragazzi, la mia monaca si basa sul far arrivare tutti attorno e poi ucciderli con questo calcio Che fa tipo 266 mila danni È molto figo, mi piace un sacco Soprattutto perché riesco a curarmi tantissimo con la monaca Infatti, pur partendo da livello 1 in esperto Che quindi dovrebbe essere abbastanza difficile Si riesce a viaggiare abbastanza bene Non è tanto difficile Però in alcuni casi diventa Oddio Sta succedendo di tutto Curiamoci Va bene Quanti cazzo siete? Levatevi dalle... Oh Voglio solo il forziere Signori Adesso Questa mossa qua poi l'adoro perché fa tipo un miliardo di danni E... Dio, tutti i corpi dei ragni per terra sono fan bruttissimo comunque Oh, basta Ok, grazie Comunque sì Io riesco a mantenere un bel po' di... Ah Dove cazzo è? Perché la maledizione è ancora in atto? Dove siete? Ah, sei qua Bastardo Yeah Livello 23 Comunque come vi dicevo si guadagnano Un sacco Di Si guadagna un sacco di esperienza adesso Quindi dovrei riuscire ad arrivare a livello 60 in una playthrough Uh, forziere radioso Il baluardo dell'erudito Mmm E qua invece cosa abbiamo? Niente Merda Va bene Andiamo un po' Allora, il baluardo dell'erudito è... Protettazione del respaldo Che toglie 50 36... No, non ci serve È inutile Quanto questo qua 36 vita di danno non ci serve Io cerco destrezza Io voglio fare danni Anche perché Con tutta la cura che ho La vitalità non serve tanto Io ho questa Soffio Celeste Che mi cura E oltretutto quando mi curo Infligo danni sacri In giro a Muzzo Chissà se posso romperli questi Nope Ok Poi ho Questa shakwa Che non fa un cazzo per curarmi Ma è fighissima Però ho questa che ogni colpo che do Mi cura 10 di vita Per questo sto usando La via dei 100 pugni Perché è molto veloce Come attack speed Quindi mi curo molto di più Poi rigenero vita A caso Cioè Insomma È abbastanza OP Girano 6 punti vita Più 3,9 Più 4,13 Sperando che la matematica Sia buona E quindi Sì Insomma Rigenero parecchia vita E quindi Ha altri 5 Quindi 18 Rigenero 18 punti vita al secondo In più quando colpisco Ne rigenero 15 Quindi C'ho un regen altissimo In più ho la cura Ho il templare Che come vedete È tutto buildato Per curarmi In qualsiasi modo E quindi Va così Una borsa impolverata Queste sono tutte Perché la gente Lascia in giro delle borse Con i suoi diari segreti Del cuore Tipo Elochitti E cose del genere Non capisco Veramente Sì Zitto Se rompi bad Poi questa ascia è bellissima Perché evoca Questa specie di Super minotauro Questa vacca Incattivita Che Viene e ammazza La gente per me Che è fantastico Che la adoro Poi giro con il mantra Del castigo Che ogni volta che paro Schivo O mi fanno del danno Faccio del danno indietro Tipo No bitch You can't attack me E poi vabbè Questa Il colpo impetuoso È una spell di utility Per quanto mi riguarda Cioè Mi aiuta ad arrivare Ai mostri Più rompiballe Quelli che di solito Stanno dietro Ed evocano altri mostri E cose del genere E poi è utile Per spostarsi in giro Così Perché mi dà anche velocità Una volta che l'ho fatto Poi io sono uno Che distrugge Qualsiasi cosa Che trovo No Vittime Che schifo Deve essere tipo La morte peggiore Del mondo Quella Comunque sia Faremo questo dungeon Insieme Se vedo che vi piacciono I video un po' A caso Così Giusto per chiacchierare Allora ne faremo altri Ciao ballo Oltretutto Sì È una spell di utility Perché Con Col colpo impetuoso Io posso uscire Da un sacco di situazioni spinose Perché mi permette Di passare anche Attraverso gli avversari Il che è tanta Roba Prendetevi dei calci infuocati Perché io sono Sangi Femmina Wop 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 Che bello Attirare i calci infuocati Ah oltretutto Eh Ho come passiva Questa che mi permette Di curare Eh No È questa Che Ogni spirito consumato Mi cura di tre punti vita Quindi ogni volta Che io spammo questo E tipo Lo spammo fin in fondo Quindi uso 250 di spirito Mi curo per 750 di vita Che su 3600 Non è mica male Quindi Allora Oddio Questo è oro Fermi Fermi tutti Fermi tutti I buoni Allora Levatevi Dalle palle Ok Curiamoci Speriamo di non morire Come dei coglioni Dopo che ho decantato La figheaggine Della mia La 4 Boom Iniziamo ad attivare Il mio mantra Uh yeah Così si fa Vedi Ah bella Bella la cura Mi piace Perché continui a spaventarmi È solo un ragno Va bene che sono arachnofobico Ma non sono così arachnofobico Allora Sì sì Dove sta Questo dovrebbe essere easy Ormai abbiamo fatto fuori Quasi tutti gli ad Perché sono gli ad La roba più rompecoglioni Perché fanno molti più danni Assieme Una volta Clearati gli ad In uno contro uno Questa build Attualmente è tipo Devastevole Poi ovviamente Non sono paragon level Non sono livello Di sto cazzo Quindi è ovvio che Potrebbero incularmi A livelli più alti Però È molto interessante Soprattutto Mi piace un sacco Il fatto che Trovi spesso Trovi oggetti leggendari Che ti cambiano Il modo di giocare Totalmente Cioè io fino a poco tempo fa Non giocavo col calcio Ma giocavo Con L'ondata di luce Mentre adesso Il calcio È Per il mio setup Attuale È tipo Il massimo Della vita Quindi Uh ragnetti Splat Ora ragazzi Oh wow Quanto è bello Venendo a esplodere 15 tutti assieme È come avere Un mega Un mega swapper Di ragni Più di cattiveria Così Andiamo di qua Vediamo un po' Che cazzo c'è Ah poi è utilissimo Sto cazzo di Sto cazzo di Scivolata Di scatto È fantastico Che è veramente Ci sono dei momenti In cui Oh Che cazzo ci fate Ma voi siete goal Cosa ci fate in una tana ai ragni Sì Sbagliato posto Ah c'è Vieni Qua Ok Allora Andiamo a vedere Un po' di qua Cosa c'è Perché non so Non so se andare Questo è quello Quello di Ablu Perché ti mette davanti Delle strade Che non sai poi Dove portano Uh Uh Azzurri Ecco Questo potrebbe essere Un problema Perché è vero Che non sono oro Ma sono tre Azzurri Che fanno male Quindi Però vediamo Se riusciamo I danni Che gli facciamo Sono incredibili Wop Buongiorno Curiamoci con una pozza Cazzo se fanno male Ma sei scemo Dai dai Guardiamo gli secchi Grazie mille Ah perché Progetto Sfida di Borna Uh Questa è verde Non lo ma Wow Fermi tutti Hai trovato Un progetto artigianale Porta questi progetti Ai relativi artigianali Ed essi impareranno A creare nuovi oggetti Oh Progetto di metallurgia Appartenente a un completo Insegna il fabbro Come forgiare un completo Agendario Sfida di Borna Richiavedere l'artigianale Quanto This is cool Su questo non mi serve Rubini Va bene Ok Upp Io potevo usare questa Per curarmi prima Ma va bene Ho usato una pozza Siccome tanto Non ne uso praticamente mai Wow Sacco di uova Allora Andiamo di qua Di qua non c'è nulla Lo so Tu Non ti preoccupare Tu basta che ricarichi Lo scatto E noi siamo tutti a posto Dai Allora L'odore racneo In pratica In questi bianchini qua Basta attaccarli Così Non perderò mai vita Nello scontro Anche se ci metto un po' di più A ucciderli Perché La mia mossa primaria di attacco Non è la più potente Dell'arsenale Perché ho usato questa Non ha senso Ok Ah no Se qua è grosso E basta È vero Tu fai solo paura Quando ti vedo Ma poi muori Come tutti gli altri Perfetto Allora E che a me piace esplorare tutto Mi dà fastidio il fatto Che ho lasciato di là Tipo Delle strade Non esplorate Andare di qua Ah Ci siamo ricongiunti Fantastico Uop 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 E Ragnettini Del cazzo Oh Salve Lei è la madre Vero I suoi figli Sono bellissimi Ok È caduto nel buco Che fine orribile Splat 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 Andiamo di qua E uccidiamo questi Con un po' di calcio In the face Chuck Norris Sarebbe orgoglioso Di noi Allora Oh Buongiorno Ma quanto siete Belli Yep Proprio un colpo Vincente Tesoro Ok Veniamo di qua Schiacciamo un ragnetto Come no Si che si può fare I ragnetti vanno schiacciati Per forza Di cose Ma proprio per forza Zia Non hai capito Allora Veniamo giù di qua Buongiorno Wow Yes F F F F Stavo ragionando Amici Amici Il ragnazzurro Posto felice Uccidiamo di tutti Wow Ma fate male Cazzo Beccati Sti colpi Impetuosi Sacri Dalla fialetta Del divino Sti cazzi Ok Tanto pazio Pantaloni Con 45 Vietalità Sto beccando Un sacco di roba Con la vitalità Che non so se Sia il gioco Che mi dice Zio Va bene Che ti curi E tutto Ma Guardate che più avanti Ti inculiamo Della grossa Quindi è meglio Si alzi la vitalità Perché se è veramente così Ce l'ho un po' nel culo Perché Non l'ho mai cagato Più di un totto Onestamente Allora No perché Volevo Volevo scattare Ho usato la mossa Superfaiga Cosa volete da me Voi Vabbè Venite qua Venite qua Che vi faccio implodere Con due mosse di karate Jujitsu E sti cazzo Poi La mia ascia evoca Sto cazzo di cosa Che è bellissimo Vieni con me Demone capra Sei tutti noi Beh 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 Che poi non è un demone capra È tipo qualcosa di strano Lo chiamiamo Sembra Sembra un po' slot Quello dei Gunnis Uh Una lettera Ma è strappata Come fai cazzo A leggerla Ok Oddio Quindi questo Volevo usare Gli aracni Allora Vi svedo un segreto Io non ho mai 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 Seguito la storia Di Diablo 3 Perché a quel che ho sentito Io sono una persona Che va molto Per il sentito dire Perché Sono scemo In quel modo A quel che ho sentito La storia In sé E per sé Fa cagare Quindi Di solito salto Schippo Faccio Voi sapete che io di solito Sono uno che Invece Impazzisce per la storia Cioè io devo Ascoltare la storia Wow E invece a sto giro Veramente Potrebbe fregare Cazzi Quello che voglio fare Spaccare teste E Inculare culi Lian No No Proprio no Scudo magico 67 Di cazzi 67 di destrezza Mi aumenterebbe I danni Se però 10 10 in più di vita Che il colpo Mi piacciono troppo Troppo per loro Quindi No way Jose Salve Asco Acoso Tossico Acoso Acoso Ma che vuoi fa Mando vai Allora andiamo di qua E tra poco In teoria Dovemmo scendere Di livello Perché non Non ci credo Che ci sia subito Il boss No Non può essere Secondo me Sto registrando Oltretutto Con Action Perché Dxtory Dxtory È stronzo E praticamente Da quando hanno fatto Un paio di aggiornamenti Il codex Dxtory Non funziona più E bisogna usare Altri codex Perché Qualunque Con qualunque gioco Si cerchi di registrare Con il nuovo Codex Dxtory No Succede Come cazzo è fatta Arrivare qua Prima di me Oddio Che schifo La tua devozione È ammirevole Fa cagare Al cazzo Fai schifo Veramente Ragni Che cazzo È schifo Va Bam Ok Quindi Credo che Di qua Ah ok Infatti Quindi Torniamo indietro E andiamo a esplorare Qua Che non abbiamo esplorato Un cazzo Di solito Nel momento in cui Non esploro Magari salto Dei goblin Pieni d'oro E cazzate varie Che poi droppano Merda Però Ecco i goblin È una cosa che mi dà fastidio Perché i goblin sono Veramente difficili a uccidere Ce ne sono troppi Dovrebbe essercene Tipo una volta A livello 2 Mi è capitato di inseguire Un goblin No Che però è andato Vicino a un altro goblin Quindi Il secondo goblin è scappato Perché inseguivo il primo goblin E io non avevo abbastanza danni Per uccidere neanche il primo Quindi mi sono inculato due goblin Così d'amblè Anche perché l'ho inseguito Per tutta la cazzo di dungeon No Ed era piena di zombie E io non potevo più andare avanti Cioè Mi bloccavano Non riuscivo a colpirlo Non riuscivo a bloccarlo in un angolo Quindi i goblin sono troppi E droppano merda C'è bisogno che droppino robe più fighe E Però siano Siano rari Proprio rari Antro della regina Araneae Araneae Incazzata anch'io Con un nome del genere Vabbè entriamo nel suo antro Regina Where are you? Nope Oh che schifo È un ragno C'è Fanno così i ragni Bene Regina ragno Buongiorno Ciao Che male Calapu Becca Questo Becca Questo Ah gli facciamo del male con questa Fantastico Dai Mena ye Mena ye Ehi Viene tolto un bel po' di vita Comunque Dove cazzo vai? È entrata nel buco Del Della morte Va bene Buongiorno 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 Ok La regina Araneo magari era un po' più difficile onestamente Regina Araneo Venga qui Dov'è? Duale lei è bellissima Tessitrice di ombre Desta ceppola De fava De sto cazzo Buongiorno Cos'è che è assorbito? Ok Vieni qua Vieni qua Dove cazzo? Perché scappi? Voglio solo dimostrarti amore Con i pugni e i calci Come farebbe Chuck Norris Ok Wop Salve Adoro lo scatto Dai 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 Mena 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 Buongiorno Assata Tata 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 Devo trovare qualcosa che mi abbassi il cooldown su quella cazzo di mossa Perché Veramente È troppo forte Oh Figa Mi sta Mi sta Prendo il culo No 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 Tutto sotto controllo Salve La biforcazione Ecco vedi Questo droppa Droppa delle cose assurde GG Vediamo un po' che cazzo ho droppato Allora 30 di stessa 35 di vita di tardi 16 punti vita al secondo Più 38 punti vita per uccisione 10% di dovere oggettivo recuperato da nemici E due castoni vuoti Cazzo sì Grazie Vediamo un po' come siamo Siamo bellissime Abbiamo una gonna fantastica Questo invece è 71 di ramatura 36 di vita di tardi Questo fa cagare Perché io c'ho già l'altro Che è più bello Yes Questo è un pugnale magico Che fa schifo Stivali magici Io c'ho ancora di stivali tipo di livello 8 Merda Devo cambiarli però Voglio trovare qualcosa di leggendario Per cambiarli Poi abbiamo la balestra La biforcazione Dallo scudiero Ciao Magnion 83 che sei online Uh Pozza di veleno Estrai il veleno Dalla pozza del lanto Della regina Aranea Libera Chirinia Con il veleno Valeno Splat Ciao Chirinia Minchia che tette Un po' Questa nuova Cazzo è proprio figa però Adesso fanno vedere anche gli amuleti Chissà se fanno vedere gli anelli No eh Però è figa proprio questa cosa Adesso sembra veramente una guerriera Tipo Prima sembravo tipo una barbona Sì possiamo andarcene Fantastico Bene ragazzi Io credo che Con questo Vediamo Ok Con questo video Terminerò Ho passati dall'altra parte delle montagne Cosa vuoi Sì grazie Abbiamo parlato con lei Trova il bastone di Casrà Casrà Va bene Ragazzi Meno me come sempre qui tuono 8 Noi ci vedremo In un prossimo episodio Spero che l'episodio vi sia piaciuto È durato circa 22 minuti Quindi ci sta E spero che Vi abbia interessato un po' Vedere Diablo 3 Le novità che ci sono I nuovi drop Io sono contento perché ha droppato roba figa Quindi mi va bene E niente Fatemi sapere un po' Cosa ne pensate di questi video fatti Sono Sono video cazzeggio In realtà nel senso Io ho voglia di giocare un gioco particolare Però magari non ho voglia di farci Un let's play Una serie Quindi faccio il gioco che mi piace Questo Rende più facile La registrazione Rende più divertente La registrazione Secondo me Ovviamente Farò anche degli altri let's play Quindi vedremo un po' Cosa fare C'è Ovviamente Dark Souls 2 Perché l'ho comprato E non l'ho mai inserito Nell'Xbox Fino ad ora E devo farlo Quindi Vedremo un po' Come andrà Il mio nome è come sempre Qui tuono 8 Ricordate Mi sembra brutto Dire queste cose A fine video Però È molto importante Commentare Mettere mi piace Condividere il video La condivisione Sono d'accordo anch'io È una rottura di coglioni Quindi se non la volete fare Chi cazzo se ne frega Però magari il mi piace E il commento Scrivere anche solo Mi piace Mi piacciono i treni I like trains È utile per l'indicizzazione Del video E per far sì Che i miei video Vengano postati Nella vostra home page E che quindi Voi abbiate accesso Ai miei video E ai feed Del canale Questo è molto importante Perché Spesso Molte persone Magari non Non hanno accesso Ai feed E quindi magari Non vedono i video E mi dicono Eh ma dov'è l'episodio Numero 60 Di sti cazzi mila Cose E io vi faccio Guarda che siamo Al 78 E è già uscito da mesi Fanno ah non l'avevo visto Quindi mi capita Quindi ve lo dico È brutto Non mi piace fare La puttana Youtubiana Però ogni tanto Ce n'è bisogno Quindi mettete mi piace Commentate Non condividete Se non avete proprio voglia Tipo ah guarda questo Che cosa fa In Diablo 3 Che in realtà Non ho fatto niente Perché è una Bosta il cazzo Quindi Non vi consiglio Di condividere Il mio nome è come sempre Qui tuono hate Ciao a tutti Gioco ai videogame Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait